Buonasera a tutti, benvenuti alla prima serata di questa serie di quest'anno delle conversazioni e degli appuntamenti del tradizionale ciclo di conferenze ed eventi organizzato dall'osservatore della società astronomica Schiapparelli con il titolo Traccede Terra. Adesso non erano fuori prima ma li potrete ritirare all'uscita i volantini delle manifestazioni che sono decisamente tante, è un calendario molto deso, soprattutto partiamo con un certo sprint adesso con un susseguirsi di eventi e la prima parte di questi appuntamenti sarà dedicata soprattutto al sistema solare. Quindi partiamo subito con una conversazione sul confine estremo del sistema solare, sul pianeta nano e capiremo meglio Fabrizio che ci spiegherà il perché di questo termine un po' particolare di cui si sapeva pressoché poco o nulla fino all'anno scorso, quindi questa sonda l'ha raggiunto. Ecco, il conferenziere di stasera è Fabrizio Toia che è fisico e volontario presso la nostra associazione che ha già fatto altre conversazioni negli anni passati quindi non mi dilungo alla sua presentazione vi dico solo che memore dei precedenti, questa sera nonostante sia mio uso prima di uscire e prendere un caffè, non l'ho preso perché sono sicuro che non servirà. Vediamo. Passo la parola. Mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Come sempre io devo prima scaldare un po' la voce perché l'ho provata questa conferenza, questa chiacchierata perché mi piace più chiamarle così, però comunque l'emozione è sempre tanta, siete in tanti, avete avuto una settimana di lavoro e siete qui comunque per andare a vedere, a sentire questa chiacchierata ed è la prima del ciclo di quest'anno. E andiamo poi a fare una chiacchierata che, ve lo dico già subito, non ho voluto tagliare niente. Ci saranno più o meno un'ora e un quarto, un'ora e mezza di immagini. Ve lo dico già subito perché la giornata di oggi, la sera di oggi è importante, vedete tutto perché questa conferenza è una conferenza fresca, fresca di giornata perché le immagini della sonda New Horizon stanno ancora arrivando. L'ultima vedrete l'ho beccata il 21 di aprile, quindi ieri, quindi freschissima. E soprattutto è una giornata ed è soprattutto un momento in cui bisognerà rendere omaggio e giustizia a tante cose. In primis dobbiamo rendere giustizia a lui, Pluto. 2006, Praga, l'Unione Astronomica Internazionale declassa Pluto dopo quasi 76 anni come nono pianeta a pianeta nano. Andremo poi a vedere perché. E' importante questa conferenza perché andremo a vedere un lavoro pazzesco che ha fatto la NASA. La NASA con la New Horizon non l'ha chiamata Pluto Express o Pluto Flyby, l'ha chiamata New Horizon, nuovi orizzonti. La NASA ha chiuso nel 2015 un'epoca, l'epoca del sistema solare interno iniziato nel 62 con la Mariner 2 su Venere e ha aperto un nuovo spazio. E' andata a vedere una zona, la fascia di Kuiper che è 5 volte in volume quello che è il sistema solare interno che invece è occupato dagli otto pianeti che andremo a vedere. E poi andiamo a vedere delle immagini di un pianeta assolutamente nuovo e di una zona assolutamente vergine, assolutamente inesplorata. Per farvi un esempio terrestre è il Madagascar. Il Madagascar quando si è staccato dall'Africa non ha subito più le influenze del continente e dentro di lui ha fatto tutta una sorta di fauna, di flora, completamente un biosistema diverso appunto perché non ha avuto l'influenza del continente africano. Questa zona non ha avuto l'influenza o comunque ne è praticamente quasi, non ne risente quasi nulla, del Sole. E qui andiamo a vedere tutti questi pianeti che, e lo butto lì, possono essere stati loro i semi che poi insieme alle comete con l'acqua hanno portato la vita sulla Terra e potenzialmente perché no, su altri pianeti che orbitano su altre, diciamo, attorno ad altre stelle. Va bene, basta indorare la pillola, direi di cominciare. Il sistema solare, il sistema solare fino al 1992, tenete presente questa data, era un sistema abbastanza tranquillo, facile, diciamo banale. C'era il Sole che stava in mezzo, lì ci sono i quattro pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte e più lontano ci sono i quattro pianeti gassosi. Il Sole erano fredde e andava bene fare, diciamo, questi pianeti ghiacciati oppure gassosi. Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Una piccola eccezione, l'eccezione che conferma la regola, perché no? Plutone, Plutone è un piccolissimo pianeta che era là. E dicono, ma cosa ci fa un pianeta roccioso così lontano? Vabbè, l'eccezione che conferma la regola, perché no? Il sistema solare andava bene così com'era. E questa era un'ipotetica, diciamo, visione artistica di Plutone che vede un Sole molto lontano e caronte la sua Luna alla sinistra. Benissimo. 1992, cosa succede? Questi due signori, questi due astronomi, scoprono un pianeta. La vedete? Qui il grafico è facile, sembra difficile, ma è facilissimo. Lungo la X abbiamo le distanze in unità astronomiche. Lungo la Y abbiamo invece l'inclinazione lungo l'eclittica. Questi due signori scoprono un pianeta che chiamarono QB1, che sono quei puntini azzurri. E' tutta una serie di pianeti che, diciamo, sono diventati QB1. Questa cosa poi ha portato, quindi, alla scoperta, alla conferma che al di là dell'orbita di Nettuno ci fosse qualcosa oltre Plutone. Un'ipotesi già avanzata nel 1952 da un certo Kuiper, che diceva che, è ipotizzato, che al di là dell'orbita di Nettuno ci fosse una sorta di serbatoio di pianeti nani e di comete, appunto, per spiegare da dove venissero tutte le comete, diciamo, quelle periodi, come per esempio la cometa di Halley. Gli studi continuarono e trovarono poi un'altra classe di pianeti, che sono quelli messi con le linee rosse. Si chiamano Plutini, ovviamente il capostipite è il nostro Plutone, e queste hanno una particolarità. Vedete che sono tutti ben allineati in colonne? Questi perché? Perché hanno, diciamo, delle risonanze gravitazionali con Nettuno. Nel caso di Plutone è due terzi. Se voi, ve la faccio facile, Plutone ruota in 248 anni, Nettuno in 165. Se fate il rapporto tra i due numeri è due terzi. Quindi, tutti questi oggetti, che si chiamano, appunto, Plutini, sono tutti, diciamo, in risonanza, chi due quinti, chi un terzo, chi un quarto, con Nettuno. Poi abbiamo tutta una zona grigia, vedete, molto distante, che si chiama disco diffuso e fondamentalmente potrebbero essere, per esempio, le varie comete, che ogni tanto, magari, grazie all'attrazione di Nettuno ci vengono a trovare. Quindi, in 1992, abbiamo l'estensione del Sistema Solare. La fascia di Cooper esiste e l'abbiamo verificato sperimentalmente. Ovviamente, gli astronomi affilano gli strumenti, che nel nostro caso sono telescopi, e scoprono un sacco di pianeti. Oltre a Plutone vengono fuori pianeti come Eris, Makemake, Orcus, Sedna. A questo punto, l'Unione Internazionale dell'Astronomia decide di darsi una calmata. Fa ragazzi, i pianeti sono nove, non possiamo riempire i libri di storia dell'astronomia con tutti questi pianeti. Si riuniscono a Praga e decidono di declassare il pianeta a pianeta nano. Perché? Perché ridefiniscono quello che è il concetto di pianeta. Il pianeta, per gli antichi greci, voleva dire errante, era un oggetto che gironzolava nel cielo, al contrario delle stelle fisse, che essendo fisse, rimanevano sempre nelle stesse posizioni. I pianeti si muovevano. Allora abbiamo detto, cambiamo la definizione. Per essere un pianeta devi ruotare intorno al Sole, essere sferico, ma soprattutto avere l'orbita pulita. Cioè essere abbastanza grande da aver pulito tutti quei detriti che davanti a te e dietro di te ti sporcano l'orbita. Ovviamente Plutone, questo terzo requisito, non lo soddisfava. E a questo punto fu declassato a pianeta nano insieme a tutti questi pianeti. Il problema è che questa zona, secondo me, è una forza delle zone più interessanti del pianeta, del sistema solare. E andremo poi a capire perché. Ecco perché voglio oggi rendere omaggio a questo pianeta. Perché se lo merita. Eccolo qui, cominciamo con un po' di storia. Plutone, scoperto nel 1930 da questo ragazzo, Clayton Boe, aveva malapena 24 anni all'osservatorio astronomico di Flagstaff. Mentre stava studiando, cercando un fantomatico pianeta X. Il pianeta X era stato ipotizzato da Percy Fallowell, che era il direttore di questo osservatorio, per spiegare delle strane anomalie orbitali di Nettuno. Questo signore si mise, notte dopo notte, quasi rischiando l'assideramento, e con una tecnica molto ingegnosa riuscì a scoprire questo pianeta. Il problema è che le sonde successive, la Voyager, per esempio, quando andò a studiare meglio Nettuno, scoprì che in verità Nettuno aveva un'orbita perfetta. Il problema è che gli astronomi del tempo partivano da dati sbagliati, e quindi sembrava l'orbita perturbata. In verità l'orbita stava benissimo. E soprattutto il pianeta X, Plutone, era troppo piccolo per influenzare un gigante come Nettuno. Quindi possiamo dire che Tombow scoprì qualcosa di giusto mentre si stava cercando qualcos'altro. Un grande colpo di fortuna che però lo portò, diciamo, alla ribalta. Infatti, nella New Horizon, che qui abbiamo un bel modellino realizzato dall'amico Nazareno, Minin, viaggiano le sue ceneri. Una piccola parte delle sue ceneri sono in questo momento in viaggio dentro la New Horizon e hanno fatto visita a questo pianeta che l'Unione Astronomica aveva declassato nel 2006. E questo è Plutone. Plutone poi già di su aveva degli strani numeri già quando era pianeta. Aveva un'orbita estremamente ellittica, passa da 4,5 a 7 miliardi di chilometri. Quindi un'orbita estremamente schiacciata, estremamente ellittica, cosa che gli altri pianeti come la Terra no, perché era un'orbita fondamentalmente circolare. Ruota su se stesso in 6 giorni, gira attorno al Sole, abbiamo detto, in 248 anni, ha una massa che è un centesimo della Terra e una densità di circa 2, quindi è due volte l'acqua. Ha una temperatura, la superficie è estremamente bassa, mediamente siamo attorno a meno 228 gradi. A queste temperature, come vedremo, coesistono sulla sua superficie dei ghiacci esotici, ghiacci fatti di metano, di monossido di carbonio, ma soprattutto di azoto. Ha una pressione praticamente ridicola, 5 satelliti, ma soprattutto l'asse di inclinazione. Lui non ha un asse di inclinazione come la Terra, che più o meno è perpendicola, o che croce, rispetto all'eclisse, benificato all'eclittica, ma è un'orbita sostanzialmente un po', diciamo, stravaccata. Cioè, durante la sua orbita, il Sole illumina, o il polo nord, lasciando il polo sud al buio, o viceversa. E questa cosa è molto importante, perché la scelta di andare con un horizon, su Plutone, in un ben determinato periodo, è legato proprio a questa inclinazione, perché solo in un certo momento noi possiamo andare a vedere dell'attività della sua atmosfera. Il sistema, poi, è molto piccolo. Qui vedete, paragonato Plutone e Caronte rispetto alla Terra. Addirittura, i due pianeti stanno tranquillamente adagiati negli Stati Uniti, come dimensioni. Quindi, degli oggetti estremamente piccoli. La sua densità, che è prossima a 2, dice, ha fatto ipotizzare agli astronomi, che questo signore abbia un nucleo, fondamentalmente, che occupa il 50-70% dell'intero volume, fatto di roccia, di silicati, quindi roccia, quella che possiamo tranquillamente talpestare, e ha poi tutto intorno una sorta di mantello fatto di ghiaccio d'acqua, coperto poi da una superficie ghiacciata. E qui gli astronomi hanno fatto poi una grande ipotesi, hanno detto che lì sotto magari ci possa essere acqua allo stato liquido, una sorta di mare primordiale. E questa era l'immagine migliore che avevamo di Plutone, fatta dal telescopio spaziale Ebol tra il 2002 e il 2003. E vedete che Plutone poi non è così banale, è bello colorato. Quindi vediamo quella strana macchia rossa, quella macchia, scusate, quella macchia bianca che ogni tanto passa, la vedete, dove c'è la frecciolina? Eccola qui. Questa qui sembra quasi un cuore di Plutone. E poi quelle strane macchie nere. Andremo poi a vedere nel dettaglio, ricordatevi questa immagine, che andremo poi a svelare cosa sono effettivamente tutti questi colori. La NASA comunque aveva già cominciato a studiare un po' il sistema e ci è mancato poco di non essere andati su Plutone, perché la NASA dopo aver fatto il programma Mariner aveva poi portato, aveva costruito poi queste due sonde, la sonda Voyager 1 e la Voyager 2, che sono andati negli anni 77 in lancio, fino alla missione 89, andavano a studiare i pianeti esterni, quindi Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Però poi la NASA ha deciso di fare una deviazione. Invece di andare su Plutone, ha deciso di mandare la Voyager 1 su Titano e la Voyager 2 invece su Tritone. Tritone che è un satellite di Vettuno. Cosa interessante anche qua, qui mi collego, oggi dovete seguirmi, perché è tutto un richiamarsi. Tritone, lo vedete, è un bel pianeta, grande più o meno in dimensioni più o meno come Plutone, ma ha una particolarità. A parte avere la densità uguale, che vabbè, l'importante è quello, periodo orbitale meno 6, quindi vuol dire che ha un'orbita retrograda. Vuol dire, per farla in breve, mentre Nettuno ruota in una certa maniera insieme ai suoi satelliti, lui ruota al contrario, cioè se tutti vanno in senso orario, lui va in senso anti-orario. Questa cosa ha fatto ipotizzare la NASA e gli astronomi, che in verità, Caronte, non sia un satellite nato dal materiale di Nettuno, ma che sia il primo oggetto della fascia di Kuiper di cui l'uomo abbia fatto la fotografia. Perché? Perché qui si ipotizza che questo, per un motivo che non voglio approfondire adesso, questo oggetto che faceva parte della fascia di Kuiper venne catturato da Nettuno e da quel momento divenne il suo satellite. La NASA allora cominciò a studiarla un po', questo Nettuno, questo Tritone, e trovò delle cose molto particolari, a parte avere una grandezza che più o meno è molto più piccola della Luna e ha dimensioni più o meno come quelle di Plutone, ma è estremamente colorato. Infatti la sua superficie, ricordatevi questi elementi chimici, è tutta ghiacciata con dell'azoto, azoto lo stato solido, abbiamo del ghiaccio d'acqua, del ghiaccio secco, che fondamentalmente è l'idea carbonica, e delle tracce di metano che ne danno questa bella colorazione azzurrata. Inoltre ha una superficie estremamente liscia, poco craterizzata, quindi vuol dire che su Tritone abbiamo dell'attività geologica. Questa è la superficie molto liscia di quello che potrebbe essere un criovulcano, vedete la bocca è quella cosa lì centrale, un criovulcano è un vulcano di quelli nella Terra, invece di eruttare lava calda, magma e erutta roba ghiacciata, come per esempio ammoniaca, piuttosto che acqua. Ed è una superficie estremamente liscia, quindi vuol dire giovane, quindi vuol dire che qualcosa l'ha modellata. E l'unico cratere è questo qui, piccolino, che è lì e non ha avuto ancora il tempo, il pianeta, per andarlo a lisciare. Altra cosa interessante è questo, questo viene chiamato, sempre da subito di Tritone, un terreno a cantalupo, perché ricorda il melone a cantalupo, il famoso melone, cioè il melone che adesso si mangia, perché arriva l'estate, è tutto molto fresco. E qui, vedete tutte queste specie di scannilature, di valli, sono dovuti a un fenomeno geologico che si chiama diapirismo, ovvero un moto convettivo di qualcosa di leggero, che arriva in superficie, rompe e crea questa bellissima, questo bellissimo mosaico. Ricordatevi questa parola, diapirismo, perché lo ritroveremo dopo con Plutone. Poi abbiamo come attività geologica dei geyser, e qua li vedete segnati, e questi geyser, sempre su Tritone, sono poi i responsabili della tenue atmosfera che avvolge questo satellite, o questo pianeta nano, perché alla fine abbiamo capito che lui è una sorta di pianeta nano diventato satellite. E anche lui ha una debole atmosfera, esattamente come quella di Plutone, che ha soltanto, praticamente è un'enezia, rispetto a quella, di quella terrestre. Benissimo, però la NASA, nell'89, disse, signori, a noi di andare su Plutone non ci interessa, noi abbiamo finito il programma, Plutone, ma nessuno ce lo ha, ce lo ha richiesto. Per andare su Plutone, però la NASA, ha dovuto costruire questa sonda, e vi assicuro che è stato un lavoro, non solo tecnologico, ma anche politico, economico, finanziario, mica da ridere. Ed è stata una sonda, che per questa sonda, l'umanità, ha segnato una pietra, miliare. Cioè noi, a un certo punto, tra cent'anni, tra duecento anni, tante cose, ci dimenticheremo. I libri di storia non scriveranno tutto, ma di questo, sicuramente, l'umanità, ha fatto un grande passo. Questa cosa verrà ricordata, esattamente come Galileo, che per la prima volta, scoprì i pianeti, o le lune di Giove. Quindi, questo è un grande passo dell'umanità. Tanto è vero, che questa sonda, così, tanto per scherzare, ha risvegliato anche, la curiosità, e gli antichi studi, di chi non ti aspetti. Io, quando ho girato sul sito della NASA, ho visto lui, e mi sono detto, cosa ci fa Brian May, nel team della New Horizons? E qua vedete, Brian May lo conoscete tutti, il grande chitarrista dei Queen. Cosa ci fa? E vedete, con il mano e il microfono, quindi si è messo anche a fare domande. E qua addirittura, si è messo a parlare con il team della New Horizons, e tutti gli spiegano, vedete, la signorina è lì, che deve spiegargli bene le sue cose. Questo perché? Perché io ho scoperto, non lo sapevo, che Brian May, prima di diventare il chitarrista dei Queen, è laureato, è un PhD in astrofisica. Quindi, la New Horizons ha svegliato in lui, tutta questa, diciamo, i vecchi ricordi di astrofisica, e dalle facce delle persone, sembra che qualcosa si ricorda ancora. Bene, ottimo, bravo, bravo Brian. Ma, a parte gli scherzi, il vero padre, della sonda New Horizons è lui, è Alan Stern. Alan Stern già lavorava alla NASA, già ai tempi delle Voyager. Dopo le Voyager gli disse alla NASA, ok ragazzi, adesso fatto 30, facciamo 31, si va su Plutone. E la NASA dice, perché? Nessuno ce lo chiede, nessuno lo vuole. Poi gli ha detto, vabbè, fai una bella cosa, Alan, sei bravo, fai un sacco di cose, e comincia a buttare giù un po' di programmi. E lui ha cominciato dal 1990 a fare programmi, che si chiamarono Pluto 350, Pluto Express, Pluto Fast Flyby, che tutti venivano immancabilmente presi in considerazione e cassati. Ma due furono le grandi casse di risonanza, per stimolare il governo dell'America a sganciare i soldi, per poi realizzare questa sonda. La prima fu loro, la Planetary Society, una società, diciamo, no profit, formata da Carl Sagan, lo vedete lì in questo beige, nel momento, nel 1980, durante l'atto di fondazione, che loro il motto è, ispirare i popoli della Terra ad esplorare altri mondi, comprendere il nostro e cercare la vita altrove. Infatti Carl Sagan poi, diede vita, diciamo, al progetto SETI. In verità, sotto sotto avevano solo una, una sola, diciamo, un altro fine, era quello di stimolare l'opinione pubblica, in modo da rompere le scatole, alla Casa Bianca, affinché potesse finanziare i programmi della NASA, appunto, per andare a fare grandi, diciamo, ricerche, su altri spianeti. Ma, la vera chiamata alle armi, per gli americani, fu questa, voi non ci crederete, ma fu questo. 1981, la, le poste americane, misero fuori, una serie di francobolli, per commemorare, diciamo, le imprese spaziali. ad ogni pianeta, una sonda, quando arrivarono a Plutone, c'era solo il pianeta, il pianeta americano, not yet explored, non lo avete ancora esplorato, e questa, secondo Alan Stern, fu la chiamata alle armi. Tutta l'opinione pubblica, cominciò a spaccare, proprio, i cosiddetti marroni, perché, si doveva andare, su Plutone. La NASA, a questo punto, la NASA, o meglio, il governo, ai tempi c'era Bush, figlio, esausti, dissero, va bene, volete andare su Plutone, e andate su Plutone. Diedero l'ok, nel 2001, e nel 2002, cominciarono, la costruzione di che cosa? Di questa sonda. Eccola qua, tutta la sua bellezza, questa è la New Horizon, un gioiello di tecnologia, la vedete qui, piccolissima, grande come un pianoforte, due metri per due metri, alta due metri e mezzo, pesa pochissimo, 470 kg, che voi direte, quanto è. Tenete presente che un satellite, delle telecomunicazioni, banalmente pesa tra le tre e le quattro tonnellate, la Cassini era alta, otto metri, e pesava tre tonnellate e mezza, tutta rivestita con questo materiale, che non solo deve tenerla al caldo, ma deve proteggerla da tutti quei detriti, che potrebbero distruggere la sonda. Come va? Chi ha costruito? Chi è l'artefice? Io non voglio dire la NASA, perché la NASA fa soltanto quella che sponsorizza e che lancia, ma qui dobbiamo rendere omaggio a un grande lavoro, e soprattutto quella sonda, e vedremo poi che sarà un problema, non ha parti mobili, cioè vuol dire che non ci sono parti, meccanismi ruotanti, perché la filosofia è che tutto ciò che non c'è, fondamentalmente non si rompe, e là sopra, alla velocità, tenetevi forte, di 50.000 km orari, un milione e mezzo di km al giorno, quella sonda non deve rompersi. Chi sono i geni che hanno costruito tutto questo popò di roba? I due fondamentali, il Southwest Research Institute, dove lavorava e lavora tuttora Anna Stern in Texas, e poi l'Applied Physics Laboratory della John Ops University in Maryland. Chi sono questi APL? Sono i cugini minori del JPL, il JPL è il Jet Propulsion Laboratory che sta a Pasadena in California, loro, diciamocela tutta, sono gli dei della costruzione delle sonde. Quando la NASA deve fare la Cassini, deve fare delle cose estreme, va dal JPL. Per questa sonda però loro, che sono i cugini minori, si sono, diciamo, distinti con l'ode. Molto bene. Come va? Facciamo un po' di cose tecniche. Come va questo oggetto? Non possiamo certo fare l'energia elettrica dei pannelli solari, siamo troppo distanti. Utilizziamo questo, un generatore termoionico a radioisotopi, che va a Plutonio. Ovviamente, per andare su Plutone, ci serve il Plutonio. Infatti, non a caso, il Plutonio è un elemento chimico che fu scoperto poi nel 1940. E poi, come trasmettiamo i dati? I dati, cioè, tutti i dati, vengono mandati su e ricevuti grazie a questa antenna, un'antenna da due metri e mezzo di diametro e soprattutto trasmetti a mille bit al secondo. Non byte, bit. E soprattutto non mega o giga, non c'è il 3G. Va a mille bit. Ecco perché la sonda ci impiegherà 16 mesi a scaricare gli 8 più 8 gigabyte di memoria a stato solido che sono stati riempiti durante il flyby. Perché così poco? Perché la NASA ha detto signori, noi non abbiamo fretta. dobbiamo però avere la certezza di portare a casa tutti i dati. Quindi, meglio pochi, ma sicuri. E andiamo avanti. Tutte le immagini che vedrete oggi sono il responsabile e lei. La telecamera LORI, Long Angle Recognizing Imager. È una telecamera ad altissima risoluzione che lavora in bianco e nero e pensate, consuma solo 5,8 watt. Ma c'è, ma impossibile. Dopodiché, per evitare che ci siano delle deformazioni, siete presente che quello schermo, quello specchio, è stato costruito in carburo di silicio, che è il materiale più duro che esista, che l'uomo conosca. Appunto per evitare delle contrazioni per l'ambiente freddo in cui lei dovrà lavorare. La seconda camera che ci darà tutte le immagini, lei e Ralph, è uno spettrometro che lavora nell'infrarosso e nel visibile, consuma 6,3 watt, praticamente niente, e poi tutti questi tre oggetti che sono Alice, Rex, Swap e Pepsi, che invece serviranno per andare a studiare la superficie, nonché l'atmosfera, e l'interazione dell'atmosfera con il vento solare e il vento solare stesso. Per la cronaca, quella Alice, è la Alice, chi magari è appassionato di astronautica, è la stessa Alice che vedete sulla Rosetta. Alla Stern ha prima progettato l'Alice della Rosetta, quella che ha dato a trovare la cometa 67P, Ciroimos-Gerasimienko, e la versione 2, la 2.0 migliorata, è qua, sulla nostra sonda New Horizon. L'ultimo strumento, ho voluto dargli una slide tutta per lei, è il Venezia Burning Student Dust Counter, ovvero è quel piccolo strumento che andrà a raccattare la polvere che sta, diciamo, in questa zona del sistema solare. Abbiamo detto che è un sistema vergine, dove la, come si chiama, il sole non è riuscito a a a perturbarlo con la sua radiazione e quindi ecco che da qui andremo a capire quelli che sono potenzialmente i sebi che potrebbero poi aver dato origine alla vita forse sulla terra. Student Dust Counter perché fu il primo strumento che è stato costruito interamente da studenti dell'Università del Colorado. La domanda che mi sono posto è ma chi è Venezia Burning? perché poi le cose uno mica le sa non è che è nato imparato e questo Venezia Burning è lei è questa bambina che nel 1918 quindi quando aveva 12 anni aveva proposto il nome Pluto quindi quando venne scoperto Pluto lei disse fu una sorta di si può dire referendum concorso e lei disse al nonno nonno manda la lettera mi piace se si chiama Pluto lui mandò la lettera e dice beh è bello Pluto perché era l'unico Dio che mancava cioè c'era Zeus o Giove re dei cieli c'era Nettuno il Dio del mare e mancava il Dio dell'inferno e quindi Pluto quindi Venezia Burning è lei è quella che ha dato i Natali diciamo il nome a questo a questo pianeta poi arrivò arrivò per l'onor di cronaca poi arrivò la Disney quindi prima arrivò il pianeta e poi arrivò Walt Disney con il cane Pluto così almeno abbiamo tolto ogni dubbio come comunichiamo ci comunica attraverso queste grandi antenne sono il Deep Space Network sono queste tre antenne N antennone che sono messe in tre punti strategici lungo l'equatore uno in America uno a Madrid e l'altro a Canberra in Australia e con queste grandi antenne a 70 metri noi captiamo i dati diciamo che arrivano dalle sonde New Horizons compresa e volendo mandiamo su dei dati quando per esempio dobbiamo sistemare i software o quant'altro benissimo cronologia della missione faccio un attimo rifornimento ok la domanda è fino a qua va bene? non vi ho persi molto bene allora abbiamo detto 2002 iniziavano la costruzione 2006 bisognava lanciare perché non a caso non si lancia a muzza perché 2006 perché bisognava andare a prendere il pianeta nel momento in cui era interessante andarlo a prendere allora Plutone è molto distante dal nostro sole noi allora tenete presente che Plutone è passato al Perigeo punto più vicino al sole nel 1989 e ha ricevuto il suo emisfero illuminato perché è sempre stravaccato ha ricevuto una certa quantità di luce ma come sulla terra voi sapete che l'ora più calda non è il mezzogiorno ma sono le due quindi l'energia che lui ha preso durante il perielio e che ha continuato a prendere ha cominciato a scaldare l'atmosfera e infatti gli scienziati hanno visto che con altre con tecniche diciamo da terra che l'atmosfera si stava accendendo quindi bisognava andare non nell'89 fortunatamente perché non c'erano i soldi ma bisognava andare qualcosa come 20-25 anni dopo appunto per permettere all'atmosfera di scaldarsi ma non possiamo aspettare troppo perché se lui poi si allontana troppo dalla sole ovviamente a parte costare di più la missione e impiegarci di più per andare ma soprattutto il freddo fa condensare tutta l'atmosfera e la new horizon quando arriva là vede un bel pianeta ghiacciato senza niente su cui analizzare quindi bisognava lanciare tutto entro il 2006 e soprattutto entro gennaio e soprattutto entro le prime i primi 20 giorni questo perché per sfruttare il gravity assist di Giove e quindi dare quella botta pazzesca alla sonda per anticipare l'arrivo a Plutone di circa 2-3 anni quindi la missione cominciò e a stretto giro si cominciò a lavorare dal 2002 nel 2005 la sonda fu trasportata da questo Boeing dove al Cape Canaveral viene poi montata viene montata su questo oggetto era l'Atlas 5 era l'oggetto più potente che la NASA aveva è una specie di è ovvio non posso dire è un missile è un missile però è l'oggetto più forte ma non bastava questo mandava su roba da 3-4 tonnellate la sonda ne pesa 450 70 ma non bastava gli hanno messo uno stadio superiore cioè l'hanno praticamente taroccato l'hanno fatto diventare un super razzo tant'è vero che poi guardate la fortuna il 19 gennaio mancava un giorno alla scadenza del famoso 20 dopo due rinvii a causa diciamo di controlli di verifiche o cause meteorologiche la sonda viene lanciata da questo signore la sonda parte ed esce dall'atmosfera alla velocità di 50.000 chilometri all'ora tanto per dirvi arriva nell'orbita della luna in nove ore quelli dell'Apollo ci hanno impiegato tre giorni ma non è mica finita nell'aprile arriva su Marte quindi praticamente tre mesi dopo a maggio entra nella fascia degli asteroidi e ad ottobre ne esce nel 2006 è interessante però ho scoperto che nel 2006 mentre loro lanciavano la New Horizon l'umanità ha scoperto Twitter quindi bella questo giochino dopodiché bisogna però dici va bene New Horizon adesso cominciamo a scaldare un po' i motori facciamo un po' di palestra in vista di Plutone e qui la prima immagine Lori nel giugno del 2006 fa la foto a quest'asteroide che è il 132524 APL che è un asteroide che la sonda New Horizon aveva diciamo scoperto durante il suo volo grande evento è questo siamo nel settembre 21 24 settembre alla distanza di 4,2 miliardi di chilometri la New Horizon vede la meta ok dobbiamo andare là sembra facile vi posso assicurare che i tecnici della NASA e diciamo il responsabile della navigazione nel 2012 ha realizzato che la sonda non sapeva dove stava andando quindi tenete presente questo 2012 perché è stato un bello spaghetto per quelli della NASA arriva a febbraio otto siamo arrivati su Giove dobbiamo fare l'assist gravitazionale ma dato che siamo lì accendiamo tutti gli strumenti e a lei facciamo un po' di foto del grande Giove in altissima di risoluzione roba che la sonda Galileo si sogna di notte o poverina si sognava che ormai è bella che è morta questa è l'immagine di Giove fotografata da Lori vedete un dettaglio pazzesco ma anche Ralph ci mette del suo comincia a dare delle immagini delle nuvole di Giove nella banda dell'infrarosso 1,27 1,53 e 1,88 micron e poi qua guardate che bello qua fa vedere tutta la bellezza di questa misteriosa atmosfera tutta così colorata perché è un'atmosfera velenosa fatta di metano idrocarburi composti dello zolfo soprattutto e poi ci regala questa bellissima macchia rossa vedete lì poi tutto il dettaglio di questo ciclone che già Galileo e Cassini avevano studiato e anche Huygens avevano studiato nel 1600 ma dato che eravamo là la sonda la camera ci ha voluto regalare anche queste immagini le immagini dei satelliti di Giove qui in alto vedete i satelliti che sono illuminati dal sole e la sonda diciamo il sole è alle spalle di New Horizon nella parte sotto invece è l'occultazione del sole da parte degli anelli e quindi vedete questo disco che diffonde la luce solare perché il sole è dietro questi anelli e quindi questa bellissima immagine che ci fa comprendere meglio quelli che sono gli anelli del gigante del sistema solare e dato che eravamo là vogliamo non fare una foto anche ai satelliti qui è Europa dove si ipotizza esserci dell'acqua sotto la superficie ghiacciata bellissima l'immagine di Ganimede altissimo dettaglio è all'istro e tenetevi forte questa è l'eruzione sul pianeta diciamo sul satellite Io un'eruzione alta 290 km nel polo nord del vulcano Tvastar e quindi qua vedete questa è stata l'ultima immagine perché poi la sonda ha avuto l'assiste gravitazionale e è andata in ibernazione a questo punto la sonda si è spenta nel 2008 passa su Saturno nel 2011 passa su Urano nel 2014 passa su Nettuno e il 6 dicembre del 2014 arriva il Principe Azzurro e la sveglia dice adesso è riposato adesso è ora di cominciare a lavorare il risveglio della sonda la sonda funziona e va alla grande fa la prima immagine eccola qui gennaio-febbraio il flyby cioè il cuore della missione è il metà luglio del 2015 quindi per sei mesi la sonda si è accesa e ha messo nel mirino plutone con tutte le sue lune le lune che poi altra cosa interessante quando partirono nel 2006 si conosceva soltanto a parte Caronte Notte e Idra Stige e Cerbero furono invece scoperte nel 2011-2012 cosa che fece eccitare tantissimi planetologi mica tanto gli ingegneri perché tutto ciò che non era previsto potenzialmente potrebbe essere un problema vi dicevo la navigazione la navigazione di voi non ci crederete voi pensate che la NASA dice il plutone è là basta farlo andare la sonda invece no perché la sonda New Horizon insieme alla camera Lorry si utilizzava le stelle fisse per orientarsi cioè lei faceva un sacco di foto le mandava a terra e un po' come i vecchi naviganti con il sestante guardando le stelle fisse si diciamo sapeva più o meno dove andare nel 2012 però il responsabile della navigazione si rese conto che plutone non sapevano bene dove stava voi direte ma come non sapete dove andare mettetevi nei loro panni questo oggetto viaggia a 50.000 km all'ora e se voi sbagliate anche soltanto di un'inizia le condizioni di navigazione magari quando arrivate al momento clou della missione vi ritrovate talmente lontani da plutone che a un certo punto le foto le camere stanno fotografando praticamente il nulla cosmico allora grande panico 2012 grande panico della NASA cosa fa questo signore ha un'idea geniale e questa è storia dell'astronomia fa una scappata all'osservatore astronomico di Flagstaff e qui trova la bellezza di mille lastre che erano state scattate tra il 1930 e il 1950 da uno astronomo che si chiamava Carl Lampland che fu il successore di Tombow e grazie a queste lastre quindi 20 anni di fotografie e unite poi a tutto ciò che aveva invece studiato la NASA con l'Hubble riuscì a dipingere perfettamente l'orbita di Plutone quindi fondamentalmente nel 2000 la NASA capì veramente dove stava andando nel 2012 dopo praticamente quanto? 6 anni di viaggio quindi tanto per dirvi quanto era delicata e quanto è difficile mandare una sonda del genere a questa velocità a queste distanze del sistema solare e qui arriviamo praticamente a luglio qui una cosa arrivata interessante allora la sonda a quella velocità non è che possiamo dare all'ultimo non possiamo diciamo lavorare troppo fino all'ultimo sulla traiettoria l'ultima diciamo l'ultimo input per dare la traiettoria alla sonda doveva avvenire entro ed non oltre il 4 di luglio dopodiché la sonda andava quello che veniva veniva avevano tempo il tempo la deadline era il 4 di luglio dopodiché signori quello che c'è c'è non si può più fare niente la sonda ormai deve andare spedita come un treno e qua vedete che la sonda si stava avvicinando qua eravamo al primo di giugno di luglio scusate qui vedete anche la macchia ho voluto mettere vicino la macchia nera vi ricordate le immagini che vi ho fatto vedere dell'Hubble che continua a ruotare perché il pianeta comunque ruota in 6 giorni il 4 di luglio la NASA mette la mette le coordinate tutto è andato bene vanno a letto tranquilli gli ingegneri continuano a lavorare il 5 di luglio avviene il patatrack il il processore il Moongooze 5 che per voi non dirà niente ma chi ha la playstation 1 e 2 ha contribuito allo sviluppo perché di questo processore perché è il processore che fa andare la PS1 e la PS2 a un certo punto va in safe mode cioè stacca tutto il processore dice il 5 di luglio mancano 10 giorni al flyby il processore stacca tutto ed entra il computer di servizio la NASA va nel panico alla stern scende a letto è incazzato come una biscia a un certo punto la NASA si mette a lavorare il Moongooze riparte benissimo ok missione salve abbiamo perso qualche foto ma poco in pochi importa la NASA però vuole un report vuole un rapporto cosa è successo e la NASA dagli errori non ha mica imparato cosa ha fatto cosa vuol dire andare in safe mode vuol dire andare in modalità sicura ovvero il sistema ha avuto quello che tecnicamente si chiama time flow error che vuol dire il processore deve fare una serie di operazioni tu cosa stai facendo a un certo punto lo hai dato in pappa perché gli ingegneri della NASA tutti belli giovani non avevano idea che stavano lavorando con un vecchio processore affidabile ma vecchio il processore stava facendo due cose complicatissime stava da un lato caricando tutti i dati che gli stavano mandando gli ingegneri e dall'altra parte stava compattando tutte le immagini che aveva nella sua memoria e le stava mandando a terra ovviamente due operazioni complicatissime che un povero processore del 1900 non riusciva a fare cosa ha detto ragazzi no way mi spengo arrangiatevi la NASA da questi errori non ha imparato perché ma la stern anzi la NASA non ha imparato ma la stern ha avuto un deja vu perché vista l'età secondo me l'ha visto l'ha avuto torniamo questa è una parentesi anche un po' così per ridere aprile 1981 primo lancio dello Space Shuttle lanciato vedete il 12 aprile dell'81 cavolo che brava la NASA ha lanciato 20 anni dopo esattamente 20 anni dopo il primo volo di Gagarin Gagarin con la Vostok 1 fece il lancio il 12 aprile del 61 in verità il lancio era previsto per il 10 di aprile perché la NASA gli ingegneri della NASA quelli dell'81 hanno cominciato a caricare a manetta il processore del povero Shuttle lo Shuttle è andato in time flow error e è andato in safe mode quindi dal 10 di aprile hanno dovuto mandare e rinviare tutto al 12 di aprile facendo questo giochino della diciamo del ventennale esatto del ventennale quindi vedete che sono cambiati gli ingegneri sono cambiati i processori ma gli errori si fanno sempre anche se ti chiami ahimè NASA però senza più perdere tempo arriviamo veramente al cuore di questa chiacchierata questa è l'ultima abbiamo detto il 5 di luglio perfetto la sonda sta andando ormai non c'è più niente da fare è programmata bisogna andare questa è l'ultima immagine che la NASA ha distribuito di Plutone già si vede qualcosa di interessante il cuore luminoso quella specie di palla bianca che avete visto ruotando tutta quella parte scura potenziali crateri e poi questa invece è l'ultima immagine che la sonda regala agli ingegneri della NASA e compreso Alastern in questo momento signori Alastern il 15 di luglio del 2015 mette sul tavolo qualcosa come 20 anni 25 di lavoro tecnico perché perché la NASA vi ricordate che la sonda non ha parti mobili durante il flyby quindi quando lei deve fare le foto di Plutone di Caronte e delle relative occultazioni tutti gli strumenti compresa l'antenna sono tutti rivolti verso il pianeta perché non avendo parti mobili quando si gira la sonda si gira tutto compresa l'antenna quindi vuol dire che per 13 lunghe ore la NASA non sa cosa sta succedendo cioè il buon Alastern deve schiacciare il bottone e farsi un giro di 13 ore prima di ricevere il segnale di avvenuto diciamo un segnale che non è neanche tanto una foto ma è solamente un bip che dice sono viva questa è l'immagine una bellissima immagine quando l'ho vista questa è arrivata il 13 luglio quando poi l'hanno divulgata questa è la tomboregio quindi quel cuore che avete visto nelle immagini rotanti dell'Ebbol queste due macchie nere che ne stanno ai lati la Cthulhu Regio e la Crun Regio e qui lo Sputnik Planum che vedremo essere una pianura fatta di azoto allo stato solido e qui Alastern riceve l'ok della sonda la sonda parte Alastern attende 13 ore la sonda fa il suo dovere tutti gli strumenti fanno quello che devono fare la sonda manda il bip e qui Alastern festeggia dice la sonda è viva non sa se poi ha fotografato il niente magari poi arriva un sacco di immagini nere però la sonda è viva e dopo il bip ad Alastern è arrivato il tweet di Obama Obama che si congratula dice ragazzi Pluto ha il suo primo visitatore Tanks NASA è un grande giorno per la scoperta e per la leadership americana in questo momento Obama sa che ha la NASA ha chiuso un'epoca ha chiuso l'epoca del diciamo dello studio del sistema solare arrivando al a Plutone quindi il not yet explored deve essere cambiato a questo punto c'è Plutone e c'è New Horizon ma alla fine questa sonda cosa ha fatto vedere? e qua ragazzi tenetevi forte questo è il piatto forte la sonda parte alle 11 quindi il 14 luglio fa in 4 ore gioca praticamente tutto quello che è successo dal 1990 cioè fate un attimo questi conti Alastern ha cominciato a lavorare a questa sonda negli anni 90 dopo 11 anni di frustrazione perché secondo me essere continuamente bocciato per motivi economici è frustrante nel 2002 costruisce in tempo di record una sonda fantastica e dopo 9 anni di viaggio ci giochiamo tutto in 4 ore in 4 ore Pluto abbiamo il flyby cioè il punto di massimo avvicinamento alle 11.49 alla distanza di 12.500 chilometri questa è l'immagine di Plutone la vedete questa è tutta l'immagine dove abbiamo tutte le zone con i vari nomi che sono stati dati cosa abbiamo visto questa è sempre Sputini Planum con la Tomboregio che fa vedere queste due montagne queste sono tutte le foto che sono arrivate in sequenza questa è un'immagine ad alta risoluzione della sonda della sonda e andiamo a vederle in dettaglio questo è lo Sputini Planum vedete questa distesa bianchissima molto liscia quindi molto giovane con questi strani canali qui abbiamo la Hillary Mons i monti di Hillary e i monti di Norgei chi sono nel dettaglio i Norgei Mons sono delle montagne fatte di terriccio e di ghiaccio abbiamo trovato delle montagne di terriccio e di ghiaccio alte fino a 3.500 metri quindi mica paglia che sono state diciamo il nome è stato Norgei Mons Norgei era questo signore era Norgei lo Sherpa che nel 53 insieme ad Hillary andremo a vedere ha scalato per la prima volta l'Everest questo è le montagne invece Hillary le Hillary Mons sono invece alte soltanto 1.500 metri la foto risale al 22 luglio del 2015 e qui appunto sono dedicate al Sir Edmund Hillary che nel 53 insieme allo Sherpa Norgei andarono diciamo la prima spedizione diciamo buona senza morti sull'Everest ma non è finita qui qui abbiamo un dettaglio arrivato anche il 14 luglio di questa distesa vedete fatta tutta completamente di azoto di azoto ghiacciato perché perché qui su Piutone abbiamo questo strano ghiaccio ghiaccio esotico non ghiaccio d'acqua ma ghiaccio fatto di azoto metano e monossido di carbonio ma le sorprese non sono finite guardate questa zona sempre questa nel dettaglio là in alto questa è arrivata il 24 di luglio vedete queste sono delle sorte di evidenti forme a spirale come se il ghiaccio scendendo lungo una 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 scarpata si scontra contro le montagne e lì cosa fa il ghiaccio essendo più leggero il ghiaccio d'azoto è molto più leggero rispetto alle alle rocce tende a a rifluire tende a girare l'ostacolo e questa è un'evidenza che sotto Plutone c'è fondamentalmente della attività geologica ma non è finito qui guardate queste bellissime immagini di queste due zone la prima rappresenta questa scogliera fatta del settembre del 2015 da Lorry e qui vedete proprio la spaccatura a sinistra una zona nera molto craterizzata quindi molto vecchia e sulla destra invece una zona molto liscia fondamentalmente giovane e in mezzo questa queste montagne e tutta questa materia nera tenete presente quella materia nera che avete visto sull'Hubble e che qua vi sto mettendo in evidenza vi spiegherò che cos'è e qui la parte sotto dove vi si vede sempre la zona chiara e la zona scura di sotto e qui delle strane qui ho fatto dei piccoli appunti che mi sono preso qua un'interessante zona dove abbiamo delle creste qui magari non si vedono bene che sono tutte perfettamente allineate come se fossero delle dune è come se in un antico passato il su plutone i venti avessero modellato questa zona esattamente come il vento modella le dune del deserto ma cos'è questo poi qui bellissimo questa quando l'ho vista è stata veramente eccezionale qui avete delle creste delle valli e cosa fa le valli le valli spingono a diciamo verso il basso i ghiacciai e qua abbiamo che cosa un flusso del settembre del 2015 questo flusso di ghiaccio sempre fatto di azoto che si incanala in quelle freccioline rosse e che poi come l'acqua che viene sversata a un certo punto si apre e rallenta e si ferma poi si rallenta e forma questo fronte questo fronte di azoto di ghiaccio di azoto che scende dalle valli e che poi si schianta e si adagia nello Sputnik Planum ma non è finita eccola qua questa è bellissima questa immagine è l'immagine che fa vedere sempre lo Sputnik Planum e questa zona che è il Cthuluregio con questa sostanza nera che cos'è questa sostanza? nient'altro che materiale organico che si chiama tolina tolina che vuol dire paciugo qualcosa di tipo melmoso perché? perché questo qui si ipotizza che è del materiale organico di azoto che si era liberato nell'atmosfera questo azoto con delle reazioni fotochimiche quindi grazie all'ultravioletto del nostro sole ha creato composti molto più complessi come per esempio etanolo etano piuttosto che acetilene piuttosto che composti aromatici e questi composti comunque carboniosi si sono poi adagiati su questa superficie eccola quella che io dicevo che questi saranno è molto più interessante questa zona perché questa zona contiene non solo del materiale organico ma contiene anche l'acqua dovuta alle comete quindi fate due più due per fare la vita sulla terra servono fondamentalmente due cose l'acqua e potrebbe arrivare dalle comete la seconda potrebbe essere il materiale organico e il materiale organico potrebbe essere questo trasportato dalle comete perché magari hanno impattato questi mondi in un lontano passato qui un'altra immaglia che fa vedere invece tutti i crateri questa è arrivata nel novembre del 2015 e qua vedete tantissimi crateri soprattutto nella zona nera ma il cuore di Plutone fondamentalmente è privo di crateri quindi una zona estremamente giovane e quindi a lei con l'ipotesi sempre più vera che lì sotto ci sia un'effettiva attività geologica esattamente come Tritone comincio a ricordarvelo questo pianeta nano poi un'immagine qua ma sono bellissimo ho fatto fatica a fare una cernita questi sono due monti è arrivato nel novembre del 2015 sono le foto di Lorri in falsi colori del monte Wright di 4 km e del monte Picard di 6 km d'altezza cosa sono? sono fondamentalmente due criovulcani qua vedete l'immagine del criovulcano Wright di 4 km d'altezza e quella è la sua bocca sono 56 km di bocca da cui in un lontano passato eruttava materiale ghiacciato fondamentalmente fatto di azoto ma non è finita qui questa è l'immagine del dicembre qui abbiamo tutti questi crateri molto strani vedete che è all'interno abbiamo tutte queste stratificazioni che l'impatto ha messo in evidenza queste stratificazioni e qui gli scienziati della NASA suppongono che ci possa essere stato per motivi che ovviamente sono sotto indagine un cambiamento nella composizione chimica, fisica del pianeta o fondamentalmente un evento geologico che però è ancora sotto studio e qui eccolo qua un dettaglio della zona montuosa annerita dalla presenza di Tolina e poi questa strana vi ricordate che vi ho detto che tutto questo ghiacciaio è crepato ed è crepato con questa forma diciamo poligonale poligonale che sono dei poligoni diciamo dei poligoni che possono essere larghi fino a 20-30 centimetri da cosa sono da cosa sono provocati l'ipotesi sono due o per motivi diciamo termici il pianeta Plutone ha subito una contrazione che ha spaccato la superficie come una sorta di creme brulee che si è rotta la superficie lasciando quindi questi poligoni o un fenomeno geologico simile a quello di Tritone quindi che richiama il diapirismo cioè del materiale leggero che è salito da sotto e che quindi ha spaccato la superficie di Plutone questa è un'immagine di questa strana puntinatura lì vedete il dettaglio di dove arriva questo è uno strano è uno strano meccanismo una strana puntinatura che in nessun luogo del sistema solare hanno mai visto e qua si ipotizza essere legato a strani meccanismi di fratturazione unite alla sublimazione del materiale sottostante la sublimazione è quel fenomeno dove il materiale sottostante passa direttamente dallo stato solido allo stato gassoso questa invece è la mappa di tutta l'acqua contenuta sotto la superficie ghiacciata di Plutone ovviamente la concentrazione va dal blu fino ad arrivare alla zona più chiara giallo-bianche e lì vedete la zona centrale dello Sputnik Planum questa qua non evidenzia acqua questo non perché non c'è ma perché il ghiaccio di azoto copre completamente questa situazione questa zona ma non è finita nella zona invece del Cthuluregio hanno trovato questo strano biancore che cos'è? analisi spettroscopiche hanno mostrato che quella è neve fatta da metano cioè sulle vette sulle punte sui rilievi rocciosi di Plutone nevica ghiaccio di metano e soprattutto bellissima è questa immagine sempre più a sinistra rispetto alla precedente dove qui a falsi colori hanno fatto vedere che questo metano ha una come si può dire una composizione molto qui cos'è che ho scritto una composizione molto farinosa perché tutti i crateri viola che vedete sull'immagine di destra sono fatti da metano e che fanno vedere la superficie blu sottostante che invece è fatta da ghiaccio d'acqua il ghiaccio d'acqua a quelle temperature diventa duro praticamente come il marmo ed è molto difficile da scalfire mentre quando un micrometeorite cade praticamente come quando lanciate una biglia nella neve fresca la neve molto farinosa parte lascia il buco e fa vedere quello che c'è sotto che può essere terra piuttosto che asfalto quindi questa è un'altra grande scoperta che abbiamo trovato su Plutone Plutone veramente non smette di stupire questa tenetevi forte questa quando l'ho vista è fantastica 24 marzo questa è l'impronta di quello che poteva essere un vecchio lago però non d'acqua ma fatto di azoto liquido su Plutone abbiamo ghiaccio d'azoto e gas di azoto perché è il gas che è sublima quando la temperatura era un pochino più calda a questo punto ci poteva essere anche l'azoto allo stato liquido e quindi questo è l'impronta di un lago fondamentalmente fatto di azoto e per la penultima che vi faccio vedere questa è un'immagine di un cratere chiamato cratere spider cratere a forma di ragno e qua è bellissimo che fa vedere questa frattura lunga quasi 580 km arrivata all'11 aprile e qua è molto simile ad altri due crateri diciamo a forma di ragno che la NASA aveva già visto sia su Mercurio ma soprattutto su Venere notate comunque la somiglianza l'ultima perché ho detto che la presentazione è fresca come la mozzarella di bufala è arrivata oggi 21 aprile 2016 questi sono stati chiamati allo crater cioè crateri lumidosi allonati e lì vedete in quella zona in alto a sinistra di Plutone abbiamo questi crateri il più grande è quello lì che vi ho evidenziato 50 km di diametro attenzione non fatevi cogliere dalle miglia è scritto in miglia la scala e anche qui è stato evidenziato tutta una presenza di metano che è quello lì viola e il ghiaccio d'acqua invece sottostante dopodiché Plutone alle 12.52 passa all'occultazione cioè Plutone col suo disco chiude il disco solare e quindi ci fa vedere la sua atmosfera e questo è quello che abbiamo visto questa è l'atmosfera di Plutone diciamo occultata grazie all'occultazione perché il sole è dietro e un'immagine diciamo a maggior dettaglio fa vedere una cosa molto interessante che questa atmosfera è tutta divisa a strati strati che dalla superficie vanno dai 130 fino ai più alti fino ad arrivare agli 80 per quelli intermedi fino ai 50 di quelli più bassi e lo spettrometro RALF e tutti i vari spettrometri della NASA della New Horizon hanno evidenziato presenza fondamentalmente di idrocarburi come il metano l'acetilene e altri composti questo vuol dire che il meccanismo della tolina cioè il fatto che queste reazioni fotochimiche sono quelle che sono responsabili della formazione di questi colori di questo marrone di questa strana sostanza che si adagia sulla superficie sono fondate cioè le ipotene sono fondate perché? perché hanno trovato del materiale organico dentro l'atmosfera di questo pianeta a questo punto ragazzi la cavalcata continua e vamos a lavorare queste quattro ore queste sono le quattro ore cruciali di questa sonda andiamo a vedere i suoi satelliti Caronte Stige Notte Cerbero e Didra ovviamente il primo cominciamo a capirci un attimo come si sono formati questi satelliti i satelliti di Plutone hanno diciamo una genesi più o meno come quella della Luna c'è stato un grande oggetto che si è scontrato con Plutone ne ha praticamente distrutto il mantello lasciando fondamentalmente intatto il nucleo infatti vi ricordate che il nucleo è molto più grosso rispetto al mantello che lo avvolge tutti questi detriti si sono poi messi nello spazio e hanno cominciato a ruotare attorno a Plutone come un grande disco di accrescimento da questo disco Plutone poi col tempo si è ritornato diciamo si è rimodellato nella forma sferica e invece da tutti questi detriti a questo punto si è formato Caronte e successivamente con gli scarti le sue lune gli altri 4 che andremo a vedere ovviamente Caronte non lo sto neanche a dire dato che Plutone è il dio degli inferi meglio di lui che poteva essere il suo fido compagno quello che le anime le porta direttamente a Pluto e quindi Caronte che è il grande nocchiere che porta le anime nell'inferno dantesco Caronte è stato visitato da New Horizon alle 12.03 a una distanza di circa quasi 30.000 chilometri e ha avuto l'occultazione alle 14.17 dell'Universal Time questa è un'immagine di repertorio molto bella perché ci fa vedere la differenza questa è l'immagine con cui l'astronomo James Christie nel 22 giugno del 78 scopre Caronte vedete nell'immagine a destra Plutone che non ha niente su quella zona dopodiché dopo qualche giorno invece compare quello strano Bozzolo quello strano Bozzolo fu interpretato come la presenza di un satellite che appunto è Caronte Caronte poi diciamo che Caronte ha un diametro che è circa la metà e crea diciamo questo strano sistema che diciamo possiamo dire questo Plutone non solo è un pianeta nano ma insieme a Caronte è il primo sistema binario perché un occhio attento fa vedere che in verità non è Caronte che gira intorno a Plutone ma in verità i due alla distanza di circa 20.000 km ruotano in 6,4 giorni attorno a quella X che vedete essere esterna al pianeta quindi vuol dire che entrambi ruotano in una sorta di waltzer attorno a quel punto che è il baricentro il baricentro che sta fuori dal pianeta mentre per il sistema Terra-Luna è la Luna che ruota attorno a noi perché noi siamo molto massicci rispetto alla Luna ed è la Luna che ruota attorno a noi perché il baricentro ce l'abbiamo noi al nostro interno però l'Unione Astronomica non ha mai riconosciuto a Plutone questo diciamo plus di pianeta doppio la cosa bella poi per una strana risonanza vedete che Caronte e Plutone si guardano sempre uno davanti all'altro quindi un ipotetico plutoniano che sta nell'emisfero giusto vedrebbe sempre la Luna invece quello che sta nell'emisfero contrario non vedrebbe mai questa Luna perché la Luna non sorge la Lugia né sorge né tramonta ma rimane sempre fissa nel cielo di Plutone e facendogli vedere sempre la medesima faccia molto bene questa è l'ultima immagine che la NASA diffonde di Caronte anche qua vediamo tanti crateri l'immagine rispetto al 78 è migliorata decisamente la regione scura polare che andremo a vedere poi ha un nome molto particolare per gli amanti del Signore degli Anelli e questo è il nostro Caronte Caronte che abbiamo detto ha un diametro di 1200 km e qui ha delle particolarità in primis questa frattura che praticamente lo taglia da nord a sud come se fosse un terminatore qui lungo l'equatore abbiamo questa bel canyon che ricorda un po' la valle marineris di Marte ma soprattutto abbiamo il cratere Mordor del Signore degli Anelli quindi la terra di Mordor 400 km di questo materiale nero che non si sa che cos'è che cos'è fondamentalmente dicono gli scienziati che potrebbe essere del materiale organico che arriva da Plutone e che si deposita tanto che loro fanno sempre vedere la medesima faccia sempre nel medesimo punto e la cosa interessante che io ho scoperto giocando un po' con con e quant'altro è che un meccanismo del genere già esiste cioè qualcosa che si porta da un pianeta e che va poi a depositarsi su un altro pianeta ho trovato questo parallelismo se noi prendiamo questa luna che mia moglie mi ha fatto notare che sembra una una grossa noce perché c'è quella specie di cresta di centrale questa luna è una luna che è giapeto che sta su Saturno orbita diciamo attorno a Saturno a 3,5 milioni di chilometri e ha quella strana cresta che non c'entra nulla ecco la conferenza però era bello metterla è una grande cresta che lavora su tutto l'equatore ed è alta 13 chilometri larga quasi 20 ed è lunga praticamente 1300 chilometri quindi una una bella frattura ma non è questo il punto clou il punto clou è che la superficie di questo pianeta di questo satellite è fatto così è fatto di due colori metà è nera e metà è bianca strano questo comportamento e cos'è questo questo nero questo nero si ipotizza essere del metano piuttosto che del ghiaccio di ammoniaca che è stato annerito dalla radiazione ultravioletta del sole che lo colpisce quindi lo degrada molti dicono le ipotesi ci sono due filosofie di pensiero la prima dice che questo materiale da dove arriva arriva da questo criovulcano che sta al centro e che ha eruttato questo materiale che poi si è annerito un'ipotesi un attimino più fantasiosa invece dice che in verità tutto il materiale arriva da questa luna che si chiama Febe che orbita a 13 milioni di chilometri da Saturno quindi molto più distante rispetto a Giappeto e che tutti questi crateri da impatto hanno liberato del materiale che poi per motivi di gravità sono andati a finire sulla luna Giappeto quindi su Plutone abbiamo sul sistema Caronte Plutone abbiamo il medesimo meccanismo di accumulo di materiale in questo caso organico su Plutone Caronte che è stato già scoperto dalla NASA però su un sistema diciamo simile su Saturno quindi una bella analogia che comunque ci tenevo a mettere in evidenza questa è tutta la diciamo la panoramica del pianeta di Caronte e qua abbiamo l'ultima chicca che è bellissima da vedere è questa specie di come lo possiamo chiamare loro l'hanno chiamato Monte Kubrick in verità io non ho ancora capito se quello è qualcosa che è stato incastonato o qualcosa che sta uscendo dalla superficie e quindi qua il mistero vedremo cosa la NASA diciamo vorrà interpretare questa secondo me questa è una cosa che si è conficcata però questo è un mio proprio libero giudizio infine arriviamo all'occultazione e qui abbiamo nient'altro che evidenziato il fatto che su Caronte al contrario di Plutone non abbiamo atmosfera su Caronte infatti non abbiamo la presenza di ghiacci esotici quindi leggeri come azota ammoniaca ma abbiamo fondamentalmente ghiaccio d'acqua e questo nell'esempio cioè il ghiaccio d'acqua è molto molto più duro da fare evaporare e quindi il calore il poco calore del sole non è in grado di farlo diciamo sublimare e qua lo vediamo l'occultazione vuol dire che a un certo punto quando la nostra sonda parte a un certo punto il sole la luce del sole arriva quando poi Caronte chiude il disco del nostro sole la luce della stella del sole crolla in maniera molto netta molto sharp continua poi il buio e quando poi la sonda il sole riemerge la luce praticamente riprende in maniera molto netta al contrario invece di Plutone che invece ha una sorta di gradiente un pochino più morbido e poi vabbè la luce continua e quindi fa vedere diciamo dice qualcosa che già più o meno più o meno si sapeva ma andiamo avanti con le ultime con le ultime lune quindi dopo Caronte abbiamo Cerbero Notte Stige Edidra anche qua sono lune che hanno dato una grande delle grandi sorprese per esempio queste Stige fotografate dalla camera lorry nel 13 luglio e qua fa vedere che questo oggetto è anche lui che anche lui si è formato da quei detriti che sono usciti dalla grande collisione non ha praticamente ghiacci leggeri di azote di metano ma anche lui è carico di ghiaccio d'acqua quindi un oggetto estremamente ghiacciato estremamente luminoso come si può vedere da queste immagini un po' pixelosa ma ci va bene questa invece è Notte e qua fa vedere l'unica particolarità che ho voluto evidenziare è questo cratere da impatto con tutto quel materiale arancione fucsia che potenzialmente potrebbe essere forse di origine organica questa è la luna Cerbero molto molto piccola scoperta nel 2011 e qua vedete che ha una strana forma che le persone che amano questa cosa l'astronautica le sonde le comete riescono a riconoscere nella 67P se voi vedete le immagini della 67P anche lei è fatta diciamo come una sorta di doppio lobo un doppio lobo tenuta insieme da un collo che tiene insieme i due oggetti e questa diciamo è una forma una morfologia che ritroviamo anche sulla luna Cerbero per finire abbiamo invece Idra anche lei ripresa il 14 luglio dalla fotocamera Lori che oltre ad evidenziare questa sorta di forma a provola provolone diciamo hanno scoperto che su questo pianeta su questa luna le temperature sono così rigide che il ghiaccio d'acqua di cui lei è molto ricca riesce a mettersi in una strana in uno strano configurazione che viene chiamato ghiaccio 11 che ha particolarità ferroelettriche cioè vuol dire che lui risente di potenziali campi elettrici esterni quindi si allinea esattamente come il ferromagnetismo il magnetismo il ferromagnetismo allinea con dei campi però magnetici quindi un ghiaccio che sulla terra ovviamente non può esistere ma che qui a queste temperature può addirittura sussistere questa è l'ultima immagine questa del 22 aprile leggete lì è quella dove stiamo andando la sonda a questo punto ha finito ha fatto vedere tutto quello che si poteva dire la sonda New Horizon dove è diretta è diretta verso quel signore lì quello che viene chiamato KBO 2014 MU69 che è questo oggetto beh non immaginatevi chissà che cosa che è il nuovo oggetto perché abbiamo detto che la NASA ha chiuso un'epoca ha chiuso l'epoca con Plutone e ora si stanno aprendo i nuovi orizzonti il primo nuovo orizzonte è questo oggetto il Kuiper Belt Object 2019 MU69 data di scoperta il 2014 con il telescopio spaziale Hubble quando ci arriverà la data stimata è il primo gennaio del 2019 quindi datemi il tempo di tirare fuori quattro foto e ci rivediamo qua nell'aprile maggio quello che è del 2019 per vedere questi nuovi cosa succede in questa nuova terra altri dati importanti nel 2026 fondamentalmente il povero la povera batteria che in questo momento sta erogando 200 watt di potenza non riuscirà più a erogare energia sufficiente per il per continuare ad alimentare e a scaldare la sonda e quindi nel 2026 potenzialmente la missione sarà finita però la sonda New Horizon continuerà ad andare e a muoversi sempre a 50.000 km all'ora e nel 2038 si stima se ancora funzionante o meno comunque arriverà alle 100 unità astronomiche di distanza e se ancora diciamo funzionante studierà quella che è l'eliosfera e quindi gli estremi confini del sistema solare che in questo momento le uniche sonde che hanno raggiunto queste estreme zone sono soltanto la Voyager 1 e la Voyager 2 a questo punto la cartolina è arrivata è arrivata direttamente da Plutone che non può che ringraziare Cara Terra Dear Earth Thanks for visiting Love Pluto e io vi ringrazio della paziente e della stoica resistenza da questo mare di immagini grazie 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 ciao dimmi scusa? hai dimenticato? sì anche le sondi e pionier hanno sì bisognava mettere anche le pionier però diciamo che storicamente il giusto proseguimento del programma mariner poi sfociò nelle Voyager 1 e 2 però anche le pionier con i loro dischi dorati hanno comunque studiato le detto tutto vi ho ucciso zero l'ultimo pianeta visibile l'occhio nudo è Saturno poi basta siamo nei telescopi allora no credo che mi si senti anche ma sì allora te stai parlando appunto del piano di azoto solido di nuova formazione ma quella formazione è dovuta alla semplice geologia o appunto alla sublimazione cioè il gioco del calore del sole che è arrivato in periodo e quant'altro è il gioco secondo quello che sono riuscito a recuperare come informazioni è il gioco delle due cioè si ipotizza che il nostro plutone abbia all'interno un nucleo sufficientemente massiccio di silicati con dentro fondamentalmente del potassio radioattivo che scalda e che quindi produce quindi questo questo movimento se no non riusciremo a spiegare il diapirismo dall'altra parte il fatto che quando il sole illumina la parte diciamo il polo nord del nostro del nostro pianeta quello comincia a sublimare ovviamente poi c'è tutta una sorta di dall'altra parte c'è il freddo quindi c'è tutta una sorta di circolazione atmosferica che poi di là si tramuta in neve e che quindi poi c'è tutto un ciclo del diciamo dell'azoto però è un ciclo diciamo mozzo perché c'è il ghiaccio e poi diventa diciamo gas e neve comunque ancora solido manca la parte liquida perché l'atmosfera è 0,3 e quindi non può sussistare lo stato liquido in un'ottomano passato però il lago ha messo in evidenza il fatto che c'era forse questo lago di azoto sì infatti molte volte in certe situazioni sono proprio bene i numeri a paragone però si scambiano di posto perché lui arriva è molto ellittica quindi passa da 4,5 a 7,5 ma in certi momenti si scambia con Nettuno quindi in verità in certi momenti è lui essere il penultimo e Nettuno essere l'ultimo 15 anni ogni 241 ogni 15 sì perché facendo poi i conti e anche rispetto agli altri pianeti del sistema solare è molto alta sì esatto quasi sono 17 gradi una roba più o meno 17 gradi 20 infatti già questo era già un primo campanello di allarme cioè qualcosa che non tornava perché tutti i pianeti erano perfettamente allineati su un piano mentre lui casualmente era alto poi in verità dal grafico che ho fatto vedere in verità non è un'eccezione anzi è la regola che vige all'interno della fascia di Kuiper che sono tutti diciamo sparsi un po' dove li pare quindi alcuni sono sul piano ma altri possono raggiungere anche ellittiche molto maggiori quindi inclinazioni molto maggiori qui c'è una domanda per cercare di capire meno di queste distanze di loro di cui stiamo parlando si parlava appunto di questa sonda che mi ha 5,5,9,9,9,9 e 10 anni che era totale a rifiutare tutto se poi scriviamo la cosa del sistema sole per se non è a una distanza di 8 minuti di luce si più toni che distanza è dal punto di vista no dal rispetto al sole è sempre 4,5 miliardi di chilometri e dal punto di vista luce sono 4 ore e mezza la luce cioè infatti uno dei problemi uno dei problemi no loro perché però la luce va molto più veloce però la luce ha impiegato 14,5 anni perché le trasmissioni cioè tra infatti uno dei problemi della sonda era che una volta che tu era proprio impossibile comandarla in tempo reale perché tu devi mandare un segnale che va a 4 ore che ci impiega 4 ore e poi a un certo punto lei deve caricarlo rimandarti dietro un segnale e ci impiega ancora 4 ore quindi non è possibile farlo in tempo reale bisognava però fare tutti i calcoli tenendo conto giusto giusto quello che succedeva appunto perché dal 4 di aprile quando poi uno schiacciato anzi il 13-14 di aprile quando hanno schiacciato il bottone la sonda si è girata e tutti gli strumenti hanno fatto le foto cioè poi speriamo che hanno detto speriamo che gli astronomi hanno fatto i conti giusti perché basta soltanto perché poi non è banale cioè se ci pensate fare una foto a 50.000 km orari non è banale cioè è come se voi fate questo esperimento cioè non fatelo in verità fatelo con una persona è come se sull'autostrada voi siete lì il vostro vicino guida e va non so a 150 km all'ora siete un po' fuori dai limiti amen e voi cercate di fare una foto per esempio al cartello provateci cioè voi fate una foto clic poi guardate e la foto non c'è perché siete talmente veloci che ecco voi pensate che quello non sta andando a 150 km all'ora sta andando a 50.000 km orari quindi è vero che Plutone è grosso però fai tutto in 4 ore cioè in 4 ore ha fatto tutto e non si può frenare perché cioè non è proprio impossibile cioè se uno faceva i conti cioè ci vuole un razzo c'è un razzo simile che deve frenare quell'oggetto che è stato lanciato da quel razzo perché per fermarlo non è che c'è il freno quello viaggia quello non c'ha attrito quello vola l'unica cosa che c'erano dei piccoli come si chiamano dei piccoli nozzle come si dice quelle docettine che buttano fuori dell'idrazina che servono solo per diciamo delle micro rotazioni però una volta che quello è lanciato cioè non lo ferma più nessuno e anche due questa missione è stata realizzata perché Plutone è in una zona particolare cioè se fosse stato a metà o dall'altra parte della sua orbita avrebbe questa realizzata ah cioè se fosse stata diciamo per esempio invece che al Perielio fosse stata più lontano allora no realizzare si può realizzare tutto perché bisognava farla l'hanno fatta però quello che dicono poi è cosa avremmo portato a casa perché in primis devi convincere gli Stati Uniti e il governo a mollare cioè già comunque sponsorizzare nove anni di viaggio è tutta gente che comunque è stata stipendiata quindi gente che ha lavorato 24 ore su 24 la seconda cosa è cosa porto a casa perché non devo fare soltanto delle belle immagini io voglio anche capire quello che è tutta la sua atmosfera se io la faccio arrivare non so troppo lontano quella si raffredda crolla tutto sull'atmosfera e vedo un bel pianeta ghiacciato non mi dà niente invece di quello che invece sono andato invece qui a studiare cioè una delle cose per esempio che hanno studiato poi non l'ho voluta dire ma è anche per esempio quella che si chiama la fuga idrodinamica dell'atmosfera cioè se mi ricordo bene l'atmosfera perde circa 75 kg di roba al secondo quella di Plutone perché è dovuta all'interazione del vento solare e questa cosa serve a noi cioè non tanto per sapere i cavoli di Plutone ma per capire come per esempio sulla nostra atmosfera il sole miliardi di anni fa ha portato via tutto quell'azoto tutto quell'idrogeno per esempio che poi ha consentito all'atmosfera di cominciare ad essere vivibile perché all'inizio l'atmosfera della Terra era molto riducente era piena di idrogeno e meno male perché sennò sarebbe bruciato tutto ma poi a un certo punto bisognava mettere l'ossigeno per cominciare a far andare le forme di vita e quindi questa fuga proprio idrodinamica proprio idro che è stato proprio per acqua ha portato via l'idrogeno in eccedenza creando le condizioni della vita sulla Terra studiando Plutone ovviamente riscalato Plutone è più piccolo ha una gravità più piccola il sole lavora meno perché è più lontano però il meccanismo potrebbe servire a questo andare su un oggetto che è privo di atmosfera non avrebbe fatto anche lì tutti questi strumenti per capire come interagiscono con il sole e con il vento solare non ci sarebbe stato quindi abbiamo avuto tante belle immagini però niente di e poi i tempi si sarebbero allungati tantissimo e quindi perché lui comunque va è ento però va c'è che è stato indossato una pianeta perché la tua orbita era stata una statica sì ma non la tua cosa cos'è che si non no cioè l'orbita praticamente quando no si sente cioè l'orbita di un pianeta cioè quando è nato il sistema solare e tutti i vari diciamo la faccio facile tutti i detriti che c'erano in giro a un certo punto hanno cominciato ad aggregarsi creando quelli che sono i planetesimi quindi dei piccoli oggetti che non erano ancora proprio dei pianeti però erano già dei piccoli grumi e quindi il grumo cominciando ad andare diciamo a seguire la sua orbita cominciava a mangiare sempre di più fino a creare tutto il sistema quindi sulla terra se io dovessi fermare la terra e percorrere con la bicicletta tutta la sua orbita non troverai niente tranne poi di ritornare sulla terra invece Plutone essendo così piccolo che ha una massa di un centesimo rispetto alla terra non è riuscito a mangiare tutti questi detriti che gli stavano davanti e quindi la sua orbita è sporcata come tutti gli altri pianeti della fascia di Cooper e a quel punto è stato il diciamo l'esca per la nuova definizione di pianeta perché se no avremmo avuto avete visto quanti pianeti però non tutti sono usciti diciamo non tutti sono usciti perdenti da questa declassazione declassamento che forse è meglio per esempio il pianeta anzi l'asteroide Vesta no Cerere è stato invece updatato ha avuto un update un upgrade a pianeta nano perché lui era un asteroide però lui essendo sferico e avendo la vita pulita da asteroide è diventato pianeta nano quindi Plutone è stato declassato mentre un pianeta come un asteroide come Cerere invece è diventato un pianeta nano quindi ha avuto un beneficio da questa nuova e adesso abbiamo sulla sonda la Dovn che lo sta studiando però non tutti escono diciamo con la fregatura della declassazione alcuni sono stati promossi però il problema è quello il problema è del fatto che era sporco poi ha avuto cioè quando l'hanno fatta questa cosa in America io mi ricordo c'è stata una sorta di rivoluzione perché non tutti volevano cioè l'opinione pubblica voleva mantenere Plutone pianeta famoso tutti hanno lo slogan le dimensioni non contano però perché comunque era americano era amato dai bambini con Plutone con il cane eccetera eccetera però alla fine nel 2006 hanno deciso così spero che sia piaciuta grazie a Fabrizio che ci ha guidato condensato le quattro ore di appuntamento di New Horizon in circa un'ora quindi ancora più più compresso ma ci ha dato un'idea di quelle che sono le notizie che ci stanno ancora arrivando perché tu appunto hai mostrato tra le ultime immagini perché sono arrivate ieri sì sono arrivate ieri perché la velocità di trasmissione è appunto così ridotta che stiamo ancora vedendo di leggere il libro che ha memorizzato la sua ancora ancora dei mesi prima adesso abbiamo per chi ci segue faccio un po' di pubblicità della nostra pagina Facebook per chi ci segue stranamente non è mai dal punto di vista dell'astronomia delle astronews non è stato mai messo niente di Plutone appunto per novinarvi questa questa serata per chi ci segue da domani appena abbiamo qualche nuova notizia seguiteci su Facebook sulla nostra pagina ufficiale e se arriva qualcosa di nuovo di interessante la nostra storia continua perché è un continuo di venire adesso è per i prossimi mesi e diciamo che veramente abbiamo scoperto un mondo nuovo assolutamente inaspettato perché tutti credevano che ma beh ci sarebbe stato qualcosa da scoprire sull'atmosfera eccetera ma sulla geologia di Plutone nessuno si può mettere lo certesimo se pensano che fosse una superficie abbastanza o sì da quella di Ergurio ma sono molto morta e invece sembra che ci sia appunto un ribollire quantomeno dal punto di vista geologico poi dopo probabilmente li vedranno le prossime generazioni appunto mandare mandare una nuova sonda fin là non so quando ci si ne penserà anche perché appunto è un po' è un po' ipotizzare di riuscire ad avere una sonda che si fermi in orbita attorno a Plutone proprio per questo fatto parlavamo di 50.000 km all'ora trasferendoli in km al secondo sono quasi 14 km al secondo quindi vuol dire che in 4 secondi arrivate a Milano beh probabilmente sarebbe un bel vantaggio per le cure il problema è riuscire poi a fermarsi a Milano ma il mondo è del costo totale di questa 700 milioni 700 milioni 700 milioni in dollari in 10 anni si l'ha avuto l'annorazione va di non questo è un tubo cioè si è spalmato in perché è avuto poi la per la cronaca la NASA l'ha fatta diventare l'ha messa dentro nel programma New Frontiers che è il programma diciamo la NASA va a tre tipi di programmi i new discovery sono le sonde quelle veloci quelle che costano poco quelle che vanno su fanno e dis fanno e vanno via come per esempio la sonda di Pimpact poi c'è la New Frontiers che invece hanno un budget tra i 700 e i miliardi di dollari che sono invece sonde come la questa come Juno che al 4 di luglio arriva su in orbita attorno a Giove gli ultimi quelle più top di gamma sono invece le flagship quindi sono i portatori della flag della bandiera che quelle invece hanno costi della malora e sono le grandi missioni per esempio se devi andare a fare una missione su Marte con equipaggio che deve stare lì e lì si costa e quindi è il programma flagship quindi dovete attraverso il programma di medio costo quindi non male assolutamente per la sonda 228 meno mediamente meno 228 poi oscilla tra i meno 233 e se mi ricordo bene i 220 meno comunque la temperatura a seguito della quale sia la metano che il monossido che l'azoto sono comunque lo sottosolido ultima cosa che volevo sottolineare quello che hai detto ma come già detto tu i consumi cioè se pensiamo che un trapano di quelli che usiamo normalmente a casa sono 800 watt e un fossil 2000 watt avere una macchina fotografica o un'antenna che funziona con 5-6 watt se riuscissimo a fare magari con 700 milioni di dollari un risparmio energetico di questo genere sui pensi di casa tutti i nostri problemi o sulle macchine tutti i nostri problemi energetici saranno risolvendo e anche questo può essere uno stimolo a dire che le missioni spaziali servono a tarare e a scoprire qualcosa di nuovo che poi 10 anni 20 anni 30 anni dopo servono anche a noi prima di lasciarvi andare vi ricordo i prossimi appuntamenti che abbiamo tengo in mano il foglietto perché sono tanti il prossimo mese vorrei saltarne qualcuno il primo è sicuramente un maggio di fuoco qualcosa di speciale perché il 9 di maggio ci sarà un transito di mercurio sul sole quindi la posizione relativa tra la terra mercurio e il sole farà sì che il disco il dischetto di mercurio attraverserà la superficie del sole avverrà lunedì e inizierà circa intorno alla luna e si portarà fino oltre il tramonto noi saremo qua nel cortile d'onore di Palazzo Estense con dei telescopi per osservarlo per cui sarà un'osservazione libera ha una durata molto estesa quindi non c'è il giorno di precipitarsi esattamente speriamo di avere un bel tempo e speriamo di poterlo osservare con il camera è un evento particolare non eccezionale come il transito di Venere che si sono verificati negli ultimi anni mi sembra un 2012 che si ripeterà tra 108 anni 13 passanti al secolo 13 passanti al secolo quelli di mercurio quindi probabilmente riusciremo anche a vedere alcuni dei prossimi non diamo il seguito troppo stretto maggio lo dedicheremo anche a Marte perché Marte sarà particolarmente vicino alla Terra in opposizione e il professor Molinari e il professor Molinari ci terrà una conferenza sulle grandi opposizioni di Marte siamo abbastanza affezionati a questo a questo compito a questi fenomeni perché la nostra associazione fu diciamo tenuta a battesimo questo salone nel 1956 con una conferenza della moglie del professor Fuglia che era relativa proprio alla grande opposizione di Marte che c'era in quell'anno ma questo era un discorso che approfondirà meglio Luca questa conferenza è il 13 di maggio quindi la stessa settimana venerdì 13 e poi invece la settimana dopo adesso non mi ricordo la data esatta non mi scorda quando il 21 maggio faremo un'osservazione particolare di Marte dall'osservatorio con quei dettagli daremo nella prossima volta intanto vi ringrazio per la vostra presenza spero che anche oggi anche stasera uno vi abbia potuto portare a caso un piccolo pezzettino di un'osservatorio scientifico e vi aspetto alla prossima grazie